Oggi è stata una partita molto combattuta, siamo molto felici della vittoria. Abbiamo giocato come una squadra e abbiamo rispettato il piano partita. Soprattutto abbiamo conquistato dei rimbalzi molto importanti e abbiamo chiuso bene l'area. Questo ci ha condotto alla vittoria. Il coach mi ha parlato, mi ha detto di restare concentrato, di giocare con più aggressività, di fare le cose piccole e fatte bene. Questa è stata la chiave di questa mia prestazione e abbiamo conquistato dei rimbalzi importanti, come ho detto prima. È stata la chiave della partita. L'unica cosa importante per me è aiutare la squadra, quindi cerco sempre di fare il massimo. A volte non si segna, a volte si segna di più, ma la cosa più importante è dare il massimo per la propria squadra. E questo è quello che io faccio sempre. Sicuramente all'inizio della stagione ho segnato più punti, ma metto sempre il massimo impegno in quello che faccio. Abbiamo parlato con lui questa mattina, sicuramente questa vittoria la dedichiamo anche a lui e speriamo di continuare a fare bene affinché quando lui rientri possa continuare a darci il suo apporto. Sicuramente la sua mancanza si è sentita.